In arrivo sul secondo binario, treno proveniente da Vestano in arrivo sul secondo binario. In arrivo sul secondo binario, treno proveniente da Vestano in arrivo sul secondo binario. In arrivo sul secondo binario, treno proveniente da Vestano in arrivo sul secondo binario. In arrivo sul secondo binario, treno proveniente da Vestano in arrivo sul secondo binario. In arrivo sul secondo binario bil Lukai, treno proveniente da Vestano in arrivo sul secondo binario. Quació Quai 권 d'in charge 120 �b紀 nói en來說, treno proveniente da Vestano in arrivo sul secondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.